No. Punto 3, revisione dei trattati europei. Noi cominceremmo una trattativa che mette prima l'interesse nazionale con i 27 membri dell'Unione Europea, come concordato nel programma, essendo fiduciosi nella capacità, vista la forza del Paese Italia, nonostante tutte e tutti, di riuscire a cambiare le regole che in questo momento per noi sono una gabbia. In questo momento i vincoli e le regole europee per 60 milioni di italiani sono una gabbia. Noi vogliamo aprire questa gabbia. Se riusciamo a farlo in maniera positiva, sedendoci al tavolo con l'accordo di tutti, siamo le persone più contente del mondo. Se fossimo sotto ricatto, per noi viene prima l'interesse nazionale. C'è un partito che si chiama Più Europa, se non ci chiamassimo Lega ci chiameremmo Più Italia. Più Europa in questo momento significa allungare la fiaschetta di whisky a un alcolista. E quindi a un alcolista lo togli il whisky, non gliene regali di più. Posso aggiungere un punto tecnico che forse può soddisfare una sua curiosità?